In principio era il libro di Elena Ferrante, pubblicato da EO. Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sotto voce nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato a Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto, gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole, è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso. Poi arriva la serie su Netflix, con una Valeria Golino strepitosa. C'è tutto in questa serie, dove la vita, in tutta la sua bellezza e oscialità, vuole, esige e pretende. Imperdibile.